Buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione. Oggi abbiamo la fortuna e l'opportunità di avere con noi un funzionario, Davide Castagna dell'Aplia, che è un'associazione legata alla confindustria, che ha i numeri del mercato. Noi gli chiediamo di darci queste informazioni, perché noi dobbiamo pensare al nostro futuro e il futuro parte da oggi, per cui com'è la situazione attuale, cosa è successo negli ultimi tempi che ci ha messo in difficoltà nel nostro settore e che prospettive abbiamo nel futuro. Grazie ai dati che ci darà, penso che potremo meglio centrare i nostri progetti futuri. Questo video che facciamo adesso lo divulghiamo a tutto il mondo, a tutti i nostri soci, perché l'obiettivo nostro come associazione è quello di far sapere le cose e di dare l'opportunità di decidere le scelte del futuro. Per cui grazie veramente Davide che ci dedica questo tempo e speriamo che possa essere condiviso il più possibile. Grazie a te Sandro, ringrazio Sandro, ringrazio Anfus, è una collaborazione che prosegue da diverso tempo, facciamo tantissimi momenti di formazione insieme. Io sono Davide Castagna di Apple Italia, adesso vi presenterò un po' chi è Apple Italia, chi rappresentiamo e cercheremo di analizzare un pochettino più che gli scenari presenti e anche gli scenari futuri o un quadro generale della situazione. Apple Italia è l'associazione di Confindustria che rappresenta l'industria degli elettrodomestici, degli apparecchi domestici e professionali. In Italia rappresentiamo circa 19 miliardi di euro di fatturato, 12 miliardi di euro di export con 145 mila addetti e oltre 22 milioni di apparecchi realizzati. All'interno di Apple Italia abbiamo due associazioni, due gruppi merceologici, uno è Unicalor che sono i costruttori di apparecchi domestici a biomassa, quindi caminetti, stufe e a biomassa. Queste sono le aziende rappresentate, abbiamo un sito che è www.unicalor.it dove mettiamo alcune indicazioni e informazioni e poi abbiamo storicamente dal 1996 il gruppo Assocamini, cioè il gruppo dei costruttori di camini e canne fumarie. Queste sono le aziende nostre associate, anche qui abbiamo un sito associativo che è www.assocamini.it dove riportiamo informazioni e aggiornamenti sui temi relativi al settore dei cammini e canne fumarie. Questa è un pochettino la premessa di chi è Apple Italia. Abbiamo parlato di numeri, noi sappiamo che 2021-2022, il settore del riscaldamento a biomassa e dei cammini e canne fumarie tutto sommato sono andati molto bene, ecco, 2022-2021 sono cresciuti in modo significativo, abbiamo sicuramente avuto una contrazione nel 2023, contrazione che probabilmente è dovuta a diversi fattori. Dopo uno dei fattori che possiamo vedere, potremo vedere della contrazione è naturalmente la grossa crescita degli anni precedenti e le situazioni contingency rispetto a quello che sta avvenendo in giro per il mondo, dalla guerra in Ucraina alla post-pandemia, post-pandemia ha fatto sì che c'è stata una grossa spinta quindi nel 21-22 e poi con la guerra in Ucraina c'è stato un rallentamento che poi vediamo nei numeri è dovuto anche al combustibile e in particolare al pellet. Però guardiamo un pochettino al futuro, cioè siamo qui anche perché vorremmo guardare al futuro in modo anche positivo, il futuro prevede degli obiettivi in termini di target 2030 dell'Unione Europea che riguardano il mondo del riscaldamento, non riguardano solo le centrali atomiche, le centrali elettriche o altro, ma riguardano il mondo del riscaldamento, cioè bisogna raggiungere determinati obiettivi europei al 2030 e sono definiti nel famoso pacchetto 50 for 55 che è il pacchetto europeo per riuscire ad ottenere degli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni climalteranti sostanzialmente, quindi il gas serra e il primo obiettivo è quello di ridurre del 55% delle emissioni climalteranti. Una riduzione che è prevista del 61% per quanto riguarda i settori ETS che sono i settori principali che emettono sostanzialmente gas climateranti e un 40% europeo ed è un 43,7% per l'Italia per i settori non ETS, cioè quindi diciamo i settori che arrivano sostanzialmente dopo. Questo è un obiettivo, per raggiungere questo obiettivo l'Italia deve fare degli sforzi e deve indirizzare i settori. L'efficienza energetica è un altro obiettivo, ricordo che i camminetti e stufe hanno un'etichetta energetica e quindi il tema dell'efficienza energetica è centrale anche per questo tipo di prodotti. Ce lo dimentichiamo spesso perché parliamo spesso di qualità di polveri, di aria eccetera, ma il tema a livello europeo è anche efficienza energetica oltre che emissioni. Quindi anche qui abbiamo degli obiettivi che sono di riduzione del 39% sui consumi primari alla fonte e di 36% sui consumi finali dal punto di vista energetico. Altro obiettivo che ci riguarda è il 40% delle energie rinnovabili. Dobbiamo raggiungere un 40% di quello che è il consumo di energie rinnovabili in Europa. Quindi una fonte rinnovabile è sicuramente la biomassa. Non vi cito i trasporti che non è tema specifico. Queste sono slide prese da RSE con il quale collaboriamo. Abbiamo parlato di biomassa, abbiamo parlato di obiettivi europei, vediamo gli obiettivi italiani. Gli obiettivi italiani devono partire da uno status di fatto. E che cosa ci dice la situazione di fatto? Il settore residenziale ha 13 milioni di edifici, 32 milioni di abitazioni, il 50 sono monofamiliari. Più della metà di questi edifici sono vecchi, oltre 50 anni. Quindi grande potenziale di rinnovo degli edifici, di rinnovo delle abitazioni, di adeguamento e miglioramento tecnologico. Non solo quindi di coibentazione, ma di miglioramento anche tecnologico. E da dove partire sostanzialmente per fare questo miglioramento? Prima di tutto la fotografia. La fotografia ci dice dal punto di vista termico che la principale fonte di energia utilizzata per il riscaldamento è sicuramente il gas metano. Sappiamo che l'Europa ha posto degli obiettivi in termini di gas metano al 2040, che saranno obiettivi importanti. Poi però subito dopo il gas metano vediamo che la seconda fonte energia che viene utilizzata per il riscaldamento è la biomassa. Allora ci sono due studi, uno RSE 2022 che ci parla di un 17% e uno DOXA più per RSE 2022 che ci parla di un 13%, legna più pelle. Vuol dire che è la prima fonte energia rinnovabile per il riscaldamento in Italia. Partiamo da questo dato. Questo dato è importantissimo e non ce lo dobbiamo scordare. Perché? Perché siamo nelle case di tantissimi italiani ed essendo nelle case di tantissimi italiani possiamo incidere rispetto alle soluzioni tecnologiche che in qualche modo i cittadini italiani e gli abitanti del nostro paese debbano fare. Quindi questo è un po' per farvi capire che tutto sommato c'è lavoro da fare, c'è attività da fare e la biomassa è comunque molto importante in Italia. La casa del futuro naturalmente riduzione della domanda del fabbisogno, partire dalla riduzione del fabbisogno, autoproduzione di fonti rinnovabili, impianti efficienti di usi fonti rinnovabili, recupero dell'energia, gestione e ottimizzazione dell'abitazione. Queste sono le prospettive future di un'abitazione che ha lo scopo e gli obiettivi di cui sopra e quindi di riduzione dell'efficienza, di intervenire sull'efficienza e di riduzione delle emissioni. Vediamo intorno a noi che cosa succede però. Noi parliamo sempre di noi in questa fiera sicuramente di legna, di pellet, ne abbiamo parlato, di caminetti, di canne fumari, ne abbiamo parlato. Ma che cosa succede intorno a noi? Succede che c'è un mondo del riscaldamento. Abbiamo visto che la prima fonte di riscaldamento in Italia è il metano e vediamo come va il prezzo del metano in giro oggi rispetto agli anni precedenti. Vediamo che c'è un calo. Prima abbiamo parlato di una contrazione o comunque una difficoltà 2023. Qui vediamo che il 2023 dopo un 2022 sicuramente il prezzo del metano cresciuto e il tema dell'indipendenza energetica dal punto di vista del metano rispetto al gas russo era un tema centrale ed è stato tema centrale, vediamo che oggi il prezzo sta calando. Sta calando e quindi si riduce quel gap rispetto alla legna al pellet di prospettiva che in qualche modo si è sempre puntata. in questo settore. Questo è sicuramente un fattore. Questo è preso da Prispedia che è un portale che aggiorna costantemente i dati quindi nel caso vi consiglio di andarlo ad analizzare visitare. Però vediamo anche il mondo del pellet. Che cosa è successo? Guerra Russia-Ucraina. Guerra Russia-Ucraina. L'importazione in Italia di pellet si è spostata dalla Russia agli Stati Uniti. Come vedete qua c'è uno degli effetti di questa situazione di guerra. sappiamo che nel mondo è in enorme febrillazione e dobbiamo sorvegliarlo. Guerra Ucraina. Oggi abbiamo più o meno una situazione conflittuale senza più o meno abbiamo in Medio Oriente con la situazione che c'è tra Israele e Palestina in questo momento. Abbiamo la navigazione sempre più complessa e complicata per l'importazione di materie prime e quindi monitoriamo e teniamo sempre sotto controllo questi andamenti. Però diciamo che c'è stato un effetto al calare della Russia è cresciuta l'importazione da altri paesi. Scusate. Sono cresciuti però i prezzi del combustibile. Sono cresciuti i prezzi del combustibile e probabilmente ci sarà una stabilizzazione nel 2024. Vediamo che dei picchi che ci sono stati si sta tornando a una normalizzazione. ci si augura che ci sia quindi una riduzione ancora. Effetto che speriamo possano dare una risposta per il 2024 a questo settore. Quindi monitoriamo sempre questi indicatori. Sono secondo me sempre fondamentali per capire non solo quello che è successo ma quello che potrebbe succedere. Altro aspetto che citavo prima. È vero che il prezzo del gas c'è stata una contrazione del prezzo del gas nel 2023. Però guardiamo qua. 2020 2021 2022 la guerra ucraina guardate da meno 6% il pellet più 60% però vediamo il gas più 490% il 2023 il gas si è stestato su un più 163% e quel 60% si è ridotto leggermente. Le aspettative sul 2024 e l'effetto Russia vediamo che ancora si sta sentendo. Però questi erano gli indicatori questi erano gli indicatori 2022 e sapete benissimo tutti com'è andato il 2022 per questo settore che è stato molto positivo nonostante una crescita del costo del combustibile. Vediamo quindi un forecast 2024 2025 2023 abbiamo detto c'è stata una contrazione probabilmente per alcuni un po' più importante per alcuni un po' meno importanti può essere che magari il settore dei cammini e cane fumarie abbia compensato con il tema del gas e quindi comunque questa contrazione non c'è stata a differenza dei cammini e delle stufre a biomassa però che cosa notiamo notiamo una cosa notiamo che il 2023 il PIL della Germania è stato in contrazione quindi c'è stata una contrazione del PIL della Germania sappiamo che è il primo la Germania è il primo produttore europeo dal punto di vista industriale manifatturiero complessivo non per il nostro settore ma manifatturiero è il primo paese in Europa il secondo manifatturiero è l'Italia non ce lo dobbiamo mai dimenticare una contrazione del PIL tedesco ha effetto sicuramente sul resto dei mercati vediamo che l'Italia è andata bene la Francia più o meno ha tenuto però il forecast questo è preso dal sole 24 ore il forecast quindi 2024 2025 ci dicono che la zona euro dovrebbe tutto sommato andare bene rispetto al 2023 e che Germania e Francia dovrebbero risalire anche loro leggermente allora leggermente sicuramente la Germania e poi nel 2025 anche la Francia quindi questi sono indicatori ad oggi naturalmente poi gli scenari cambiano oggi abbiamo saputo per esempio che l'Italia invece di crescere nel 2023 08 come era previsto è cresciuta dallo 09 quindi gli indicatori lo si fanno a consuntivo queste sono prospettive però danno un po' di 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 segnale ecco da questo punto di vista a tutto questo si abbina tutto quello che sta arrivando arriverà che si può leggere dal punto di vista del produttore come vincoli oppure come opportunità sappiamo che uno degli aspetti fondamentali per il mercato e per il settore dal punto di vista manifatturiero io lo leggo sicuramente positivamente per quanto riguarda l'elettrodomestico dai frigoriferi lavatrici però anche il settore dei camionetti e stufe oggi ha un'etichetta energetica ha un'etichetta energetica che cambierà in futuro non sappiamo se nel 2024 nel 2025 nel 2026 ci sarà una nuova etichetta la nuova etichetta è più o meno come quella che vediamo qua scoscritto 2021 che è il rescaling cioè un riscalaggio di quelle che sono le classi energetiche cioè si passerà dalle classi A++ a G alle classi da A a G e ci sarà un riscalaggio quindi le future classi energetiche dei camionetti stufe piuttosto che delle caldaglie a biomassa ritorneranno ad essere da A a G quindi con informazioni aggiuntive per l'utente perché ci sarà un QR code dove è possibile ottenere determinate informazioni del prodotto e dalle informazioni del prodotto si può anche fare cultura e informazione al cliente finale quindi vediamolo come nuova opportunità sicuramente i vincoli da rispettare saranno più significativi e pregnanti di oggi però dall'Europa arrivano tante regolamentazioni non sono regolamentazioni semplici e facili in qualche modo da seguire da perseguire però cerchiamo di avere sempre quell'ottica positiva che l'industria ha sempre avuto negli anni e che ci auguriamo che consenta all'industria e a tutti gli operatori di percepire quell'effetto positivo del PIL che abbiamo visto prima è di trainare un pochettino il settore per il 2024 e per il 2025 io mi fermo qua volevo ringraziare un po' tutti spero di aver dato un quadro complessivo del settore volevo ringraziare anche il nostro capogruppo Fabio Forte capogruppo di Unicalor che magari passo il microfono per fare un saluto se sei d'accordo grazie grazie a tutti per la partecipazione innanzitutto ringrazio il presidente Sandro Bani per ci ha dato questa opportunità questa mattina di poter presentare un po' come è la situazione del mercato e quelle che possono essere le prospettive future ringrazio Davide per aver fatto la presentazione è sicuramente stato molto molto efficace e per qualsiasi domanda siamo siamo a disposizione grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti